Buongiorno a tutti, magliettina sempre col P40 Curtis, bello con la tigrettina volante e mi sa che oggi in tigrati ci saranno un po' di incavoletti diciamo, ci saranno un po' di personcine visto quello che è successo martedì sera nelle due partite nell'anticipo del 31esima giornata del campionato di Serie A. Ma comunque per ora non parliamo di sport ma ne approfitto visto che come direbbero a scuola c'è un buco e riusciamo a metterci dentro un bel vidietto di notiziotte del Gigione che riguardano omaggio ma più che notizie sono delle cose curiose, notizie curiose ecco diciamo notizie curiose particolari, gaudenti volendo, divertenti tra virgolette. La prima è la seguente, notizie sempre di metà maggio più o meno del 2020. Un sessantenne positivo al Covid investe un ciclista e contagia gli agenti della polizia locale. Un sessantenne di Dervio, provincia di Lecco quindi delle mie parti, evade dalla quarantena e investe un ciclista senza fermarsi per prestare soccorso. Individuato dagli agenti non gli avvisa di essere positivo al Covid e li contagia. Un sessantenne di Dervio, dicevamo, in provincia di Lecco, positivo al Covid ha violato la quarantena investendo una donna in bici e scappando senza prestare soccorso. Gli agenti sono riusciti, grazie a delle telecamere di sorveglianza, ad identificare la targa del veicolo e si sono diretti presso l'abitazione della proprietaria. Marito e moglie, una coppia di sessantenni, sono andati incontro ai poliziotti senza mascherina e non rispettando le distanze di sicurezza. I due non hanno nemmeno informato gli agenti che il marito era positivo al Covid e lei in quarantena. Infatti, solo durante i controlli in banca dati, gli agenti hanno scoperto le restrizioni imposte alla coppia. Ora gli agenti intervenuti sono in quarantena. La polizia locale ha sequestrato la patente al sessantenne e lo ha denunciato per lesioni e omissioni di cossoccorso. La prefettura di Lecco dovrà valutare il rischio di contagio per gli agenti e l'inosservanza della quarantena. Quindi complimenti al sessantenne. Seconda notizia. Torino. Due serre di cannabis in camera da letto. Lo spacciatore si sente male. Soccorso e arrestato. Non ho parole. Piantagione in un alloggio del centro. Forse il malore è causato da un guasto all'impianto di areazione. Lo spacciatore si è sentito male, intossicato dalla stessa cannabis che produceva in casa. E per questo è stato smascherato dai carabinieri del nucleo radiomobile. Nella notte, infatti, è arrivata una telefonata al 112 con la quale qualcuno dava l'allarme di un possibile malore dell'inquilino di un alloggio in centro a Torino. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato il padrone di casa, un uomo di 53 anni, italiano, in stato confusionale. Perquisendo l'alloggio hanno capito anche il perché. Hanno trovato spinelli, vasetti pieni di marioiana essiccata, diversi grammi di sostanza sparsi nelle stanze e due serre artigianali in camera da letto. Forse il luogo più appartato della casa per evitare che qualcuno si accorgesse della produzione. Ma anche il posto più pericoloso, dal momento che l'uomo si è intossicato probabilmente dormendo nella stessa stanza dove si trovavano 46 piantine e tutto il necessario per la coltivazione. Non è escluso che il malore sia stato causato da un guasto all'impianto di areazione delle serre. L'uomo è stato accompagnato allo spinale Molinette dove è stato dimesso con la diagnosi di intossicazione da cannabis. A quel punto è stato arrestato dai carabinieri. Complimentoni. Veniamo alla terza notizia che più neanche una notizia è una cosa informativa per chi ha i figli piccoli. Probabilmente non per i miei follower che da quello che leggo hanno tra i 16 e i 24 anni. Però magari c'è anche qualcuno più grande che mi segue. Non sempre le specifiche di YouTube sono precise. YouTube non Facebook. YouTube perché sul coso c'è età tutto un 16-24. Piaccio ai giovani, fa piacere. Ogni volta che porti tuo figlio al parco, che fai un picnic, ogni volta che fai una passeggiata in un bosco, che entri a contatto con erba o fai passeggiate dove c'è l'erba alta sui bordi, arrientra e controlla bene il tuo corpo. Ad oggi l'unica vera arma per questa malattia così considerata rara è la prevenzione. Il morso di una zecca è in dolore. Puoi scoprirla sul tuo corpo solo cercando bene. Un morso di una zecca può distruggerti la vita, in Italia soprattutto. È importante rimuoverla con apposita pinza e movimento rotatorio. Staccarla o mettere qualsiasi olio o sostanza provoca il rigurcito e i patogeni vengono trasferiti nel nostro sangue. Si può essere asintomatici per anni e sviluppare in seguito sintomi non riconducibili alla malattia perché sconosciuta ai medici italiani. La zecca va rimossa in un determinato modo, messa in una provetta congelata o immersa in alcol ed inviata ad un istituto zooprofilattico competente. Suggerisco quello di Brescia. La zecca può trasferire non solo Lyme, ma anche infezioni come l'erlichia, bartonella e tanti altri patogeni che se non presi in tempo infettano il tuo sangue e creano patologie svariate. Tra l'altro la malattia di Lyme simula 70 malattie diverse. Quindi fate conoscere questo mio post, diciamo, per il bene delle persone che amate. Veniamo, proseguiamo, perché i cambiamenti climatici fanno resistere questi parassiti tutto l'anno. Se possiedi un animale non interrompere mai il trattamento antiparassitario, mai. Da marzo a ottobre usa anche il repellente olio di NEM naturale sul manto. E poi dopo c'è appunto questa persona che dice che ha contratto la Lyme cinque anni fa e ha passato anni interi senza una diagnosi. La vita con la Lyme è una vita appesa ad un filo, piena di sofferenza e senza una guida vera e propria a livello medico. Questo posta alla natura di prevenirla e salvare vite. Quindi ho fatto un po' di prevenzione, diciamo, informazione preventiva se vogliamo vedere. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, ve l'ho detto, tre notizie veloci e veloci da leccarsi le orecchie. E ci vediamo al prossimo video che riguarderà le schedine bollettine del Gigione per quanto riguarda le partite di giovedì che farò nella giornata di mercoledì. Ciao!